Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Stefano Mondini, allora buon compleanno alla famiglia Simpson. Buon compleanno a tutti, anche agli spettatori dei Simpson, perché chiaramente non siamo solo noi che abbiamo dato la voce, poi sono arrivato un po' dopo, ma credo che buon compleanno vada a tutti. Allora, tu dai voce in questa splendida e divertentissima saga al preside Skinner, ma non solo, perché tu fai più di un personaggio. Sì, doppio anche Barney Gamble. Sono gli antipodi, diciamo. Sì, poi per incidente, perché quando sono subentrato, che doppiavo il preside Skinner e Tonino Accolla, che all'epoca era il direttore della serie, mi disse Stefano, mi copri due battute di questo personaggio qua? Guarda, cambia voce, fai un'altra cosa. Abbiamo inventato quella voce e poi lui è rimasto. Invece il preside Skinner com'è andata? Il preside Skinner sono stato scelto successivamente, nel senso che sono stato una voce che è arrivata più avanti, sempre Tonino che mi ha scelto. Io poi all'inizio addirittura ho fatto il provino per Homer, quindi forse chissà, i Simpson erano nel mio destino. Cosa direbbe il preside Skinner? Mannaggia, vuole fare Homer! Beh, forse fare Homer non era proprio la scelta giusta, perché è un uomo un po' dissoluto. Senti, ovviamente tu non sei soltanto nei Simpson, però intanto ti chiediamo che cosa ti ha dato questa serie, che cosa pensi di questa famiglia così gialla, tra le altre cose? La serie sicuramente è stata dirompente, è una serie che ha rivoluzionato il modo anche di fare satira e tutto il resto. Io sono arrivato dopo, mi fa piacere far parte della tribù, perché poi siamo tutti amici, siamo cresciuti insieme alla serie, con tutti gli altri. Cos'è il doppiaggio per te? Il doppiaggio a me è sempre piaciuto, perché siamo un po' agrobati della voce, ed è una cosa che mi ha sempre affascinato fin da bambino, e quindi ho potuto dare proprio corpo, anzi voce, al mio sogno. A parte Simpson, qualcuno a cui sei particolarmente felice di aver potuto doppiare? Beh, anche perché mi hanno dato una continuità, per esempio il Dottor Weber di Grace Anatomy, Mike Herman Trout di Breaking Bad e Better Call Solo, insomma sono dei personaggi che mi stanno dando anche parecchia notorietà, oltre ad avere il piacere di doppiarli. Quindi lavorare con la voce possiamo dire che è meraviglioso? Ah, è splendido per me, è la vita. Ciao Voci.fm, qui da Stefano Mondini. News dal mondo della voce, radio doppiaggio. Voci.fm, il magazine.